E invece qui abbiamo Stefano Lupieri Polverini che è un artista a tutto tondo, fa tantissime cose e oggi ci delizia con questi due quadri gemelli che rappresentano cosa? Allora, fatto e posto sempre per questa manifestazione, sono due opere però in realtà è un tutt'uno come simbolo della Tuscia in tutte e due, Tuscia è medievale principalmente, quindi sono due merli la distinzione è che è il merlo guelfo, quindi rappresenta il papa, quindi rappresenta il sarro quest'altro è il merlo di Bellino, quindi rappresenta l'imperatore, quindi il profano che però comunque sia, sono due opere ma sono legale perché tanto comunque si ha le due entità, c'è un po' da fare se sono comunque legale, un po' per mano diciamo Grazie Grazie.